Ciao a tutti e bentornati con una volta su IndieGameplay.it. Oggi un video rapidissimo su Stormworks. Non so se avete visto la live che ho fatto l'altra sera, ma se siete interessati al gioco sicuramente l'avrete vista. Quello che non siamo riusciti a fare è configurare appunto un motore decente per la nostra nave, perché come sapete il 18 uscirà una patch che permetterà di creare i motori modulari, quindi il vostro motore, piazzandogli i vari pistoni, insomma. Vi spiego rapidissimamente in che cosa consiste l'aggiornamento. In pratica voi potrete mettere, vedete in questo caso vado a mettere, andando in questa nuova sezione qua sotto in fondo della modular engines, possiamo mettere il crankshaft che come il buon MySummer Car ci insegna è l'albero motore, che facciamo un pelino più lungo per esigenze di copione. Poi possiamo andare a mettere, vedete, i cilindri, cylinder, e ne mettiamo quattro. Possiamo metterli anche a lato, però dobbiamo ovviamente farli comunicare uno all'altro. E dopodiché dobbiamo andare a gestire diverse cose, come la dissipazione del calore, quindi il raffrescamento del motore, quindi il cooling, gli scarichi, l'ingresso del carburante, l'ingresso dell'aria, ed è la cosa che più mi ha bloccato durante la live. Ora, io non vi mostrerò come rifare il motore, ve lo descrivo. Praticamente abbiamo, vedete, la stessa replica di quello che abbiamo da questa parte. In questo caso qua si va a mettere il modular engine dry belt qui, poi da un lato l'alternatore con la cinghia che va verso la ruota, dall'altra parte mettiamo lo starter, che è collegato comunque alla chiave o al pulsante d'accensione, e va ad avviare il motore. Qua in alto invece abbiamo un'altra cinghia, che è questa, la fluid pump, che è l'acqua. Come potete vedere, l'acqua entra pescandola da un serbatoio, quindi questo è stato settato con questa freccia come fresh water, perché l'acqua fresca, l'acqua salata, non va bene perché deteriora il motore. Quindi in questo caso abbiamo un circuito dove la pompa prende da qui, fa uscire, fa andare qua, dove manca questo pezzo qui che adesso andiamo a prendere, che è questo, l'engine, il manifold di introduzione del motore, entra, raffredda tutti i cilindri, esce, entra nel radiatore, viene raffreddata, a questo punto viene ributtata nella vasca dell'acqua e poi nuovamente ripescato dalla pompa, che poi lo ributta in circolo dei pistoni, l'acqua si scalda, passa nel radiatore, si raffredda, viene buttata insieme all'altra acqua, è un circolo che comunque ricorda un pochino quello della macchina. Poi lo scarico, col collettore dell'exhaust, basta un pistone perché poi comunica con tutti quelli vicino, ma veniamo alla parte più importante che più ci aveva bloccato durante il video precedente, che è quello dell'aria e del carburante. Come potete vedere, qua abbiamo fatto l'introduzione, diciamo, che è questo, l'engine air manifold e dall'altra parte abbiamo il fuel, che è questo, modular engine fuel manifold. Da un lato è connesso alla, diciamo, la tank, la tannica di carburante, il serbatoio, dall'altra può essere collegato a un classico filtro o a questo, che butta dentro l'aria. Ma che cos'è che non funzionava? Il motore non si avviava. Ovviamente poi i collegamenti elettrici li potete vedere in live, però in sintesi, prima di tutto la batteria è connessa a tutto e poi i collegamenti sono molto semplici. Però adesso vi vado a spiegare. Che cosa si sbagliava in live? In live avevamo la frizione ok, funziona correttamente, dall'altra avevamo l'acceleratore che portava su carburante e aria. niente di più sbagliato. Infatti adesso l'acceleratore l'ho adibito a gestione della pompa dell'acqua. Perché? Perché per una corretta, diciamo, alimentazione del motore, il rapporto di aria e carburante deve essere di un certo tipo, per poter permettere al motore di stare acceso, di bruciare. Ed è questo il gran problema che in live non ho valutato. Infatti, io qua ho settato due leve e ognuna gestisce il flusso di uno di carburante e uno di aria. E in questo caso l'ho settato per quanto riguarda l'aria a 0,48 e 0,28 il carburante. Con questa configurazione il motore parte, come possiamo vedere qui. Adesso io piove, ma non è un gran problema. Potete vedere che vado a mettere lo starter, il motore parte, in questo caso attacco la frizione perché sta girando a vuoto a giri massimi, il motore inizia a macinare, ma quello che succede in questo momento, il gran problema è che la temperatura, comunque, manifold sale. In questo caso non avete un feedback audio, però aumentando la pompa dell'acqua, l'acqua inizia a circolare e la temperatura sale più lentamente e comunque si stabilizzerà intorno ai 60 gradi, 60-62. Mentre invece se la dovessi disattivare, il motore andrà a prendere fuoco in breve tempo. Questa è una proporzione. Vedete che io posso andare a cambiare, gli diminuisco il carburante e vedete che cala l'efficienza. Lo riporto a 28, se riesco. 26. Vabbè, il motore inizia e gira. Ok. In questo caso vedete il motore adesso si sta scaldando, si è un po' raffreddato perché gli ho calato il carburante, quindi meno esplosione, sono esplosioni più fredde e va bene. Non c'è modo di spegnerelo se non abbassando i due e quindi soffocando il motore. Ora vi chiederete, ok, ma come faccio a guidare una nave così con queste due leve? No, non si fa ed è il motivo per cui questo gioco probabilmente farà fuggire molti di voi o vi convincerà a non acquistarlo. Quindi o vi scrivete lo script o vi programmate il vostro microcontroller oppure andate a scaricarlo da si chiama NJ Modular Engine Controller, me l'ha considerato Xplayer su Discord ed è un play, seguendo ovviamente un video che ha postato lui, che mi spiega esattamente come configurare il motore. Però in sintesi, se siete dei perfezionisti a cui piace programmare i moduli e sapete come farlo, beh, lo potete fare senza problemi. Se invece, come ero io all'inizio, vi disturba il fatto che se non l'avete scritto voi non lo sentite vostro e non riuscite, quello sicuramente non sarà un gioco per voi. Dovete sapere almeno un minimo di programmazione o comunque un minimo di... Ecco, questo, questo, utilizza diverse cose di programmazione, ovviamente potete piazzare voi i blocchi, quindi non serve che scriviate il codice, il codice lo scrive già in automatico il blocco che piazzate, però bisogna sapere che cosa si sta facendo. Che cosa fa in sintesi questo controller? Questo controller, se noi andiamo qua nella gestione, ci permette di settare diverse cose, quindi con il sedile e il tasto V, lui va, accelera, aumenta i giri del motore tenendo in proporzione le due introduzioni di carburante e di aria. Questo in sintesi a grandi linee è quello che fate. Quindi il motore non è difficile da costruire, poi lo potete ottimizzare mettendo i pistoni ai lati, facendoli comunicare da sotto. Questa non la mettete così a sbalzo, la mettete in basso, magari la tank dell'acqua ne mettete una più piccola sotto, una scosta. Quindi lo potete compattare, ed è quella la figata di brevettare il proprio motore. Poi, sul funzionamento, la carburazione, quello è un altro paio di maniche. Però niente impossibile, perché comunque, ricordatevi, c'è un workshop fornitissimo e il bello di questo gioco, se siete degli ingegneri mancati, potete andare a cercare il vostro modulo e modificarlo. Potete prendere un'auto già costruita e modificarla, potete prendere uno dei mezzi più difficili da costruire, che può essere un aereo o un sommergibile, andare a modificarlo. Usando dei microcontroller già costruiti da altri, che ovviamente non è che dovete pagarli, il gioco consente di condividere, e chi ha piacere a condividere, condivide e magari poi qualcuno glielo perfeziona anche. Alla fine non è che la programmazione è una cosa, in questo caso, almeno così a cubi, qualcosa di brevettato, insomma. Quindi, ecco, questo è un video completamente a quello che è stata la live. Calcolate il circuito qui occupa un po', quindi dovrete ottimizzarlo. Al momento, nessuno vi obbliga a costruire un motore del genere. Ovvio che fare un motore del genere ve lo potete fare della potenza che volete, della dimensione che volete, tenendo conto che questo albero motore che abbiamo fatto qui è il più piccolo. Se calcolate che il crankshaft, quindi il motore, quello più grosso e grande così, calcolate anche la dimensione. Potete muovere una ventola enorme collegata a questo crankshaft e così come esistono anche i pistoni, i cilindri, grossi così. Quindi pensate alla sala macchine di una nave. Questo è il pistone. Quindi ragazzi, spero di avervi fatto, cosa credita di avervi portato questo approfondimento su questo discorso del motore, di cui io non sono esperto, ma che con soddisfazione sono riuscito a risolvere facendo varie prove e ovviamente se avete seguito i tutorial su My Summer Car e il principio di funzionamento del motore lo avrete, come ho fatto anch'io grazie a quel gioco, appreso abbastanza. Ragazzi, vi ringrazio. Alla prossima e ciao ciao.